Musica Alvia la sesta edizione di Energicamente, il laboratorio didattico ideato da Estra, con Regione Toscana, Legambiente, Giunti Editore, Limbo e Progetti Educativi. 6.000 studenti di Toscana, Umbria, Abruzzo e Marche vanno così a scuola di energie rinnovabili. Musica Estra, sempre più vicina alla quotazione in borsa. Anche il comune di Arezzo approva lo sbarco della società in piazza affari. Nelle prossime settimane prevista l'autorizzazione complessiva dei soci di Estra. Estra Energie acquista il 49% Gasmarca, società controllata indirettamente dal comune di Civitanova Marche, che vende metano e energia elettrica a 19.000 clienti. Previsto uno sviluppo nel settore elettrico. Musica 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 Musica